Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è 10 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono zucchero, fragole e succo di limone. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le fragole. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di limone. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti. 80 gradi. Velocità 4. La salsa è pronta, trasferirle in un contenitore e lasciare raffreddare completamente. Salsa di fragole. Ideale per guarnire budini, panna cotta e torte. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.